Il Vescovo Mario Russotto ha costituito il nuovo Tribunale Ecclesiastico Diocesano, nuovo nella sua composizione e configurazione e nuovo nelle sue competenze. Con ciò ha dato seguito alle indicazioni di Papa Francesco previste dal motu proprio che risale al 15 agosto del 2015. Questo passo attua alla riforma dei processi di nullità matrimoniale, il cui numero è cresciuto di molto negli ultimi anni. Sino ad ora i processi in Italia percorrevano una prima e una seconda istanza, le cui sentenze dovevano risultare conformi. Se ne occupava il Tribunale Ecclesiastico Regionale o un Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano. Quelle competenze per la diocesi di Caltanissetta avevano naturalmente sede a Palermo, nel capoluogo isolano. Monsignor Russotto nel suo decreto richiama i principi che ispirano tale riforma, sono di due specie ecclesiale e pastorale. Dal punto di vista ecclesiale il motu proprio stabilisce e rende evidente che il Vescovo stesso, nella sua Chiesa di cui è costituito pastore e capo, è perciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Suo compito è garantire insieme al Papa l'unità cattolica nella fede e nella disciplina. Dal punto di vista della percorribilità pastorale, un gran numero di fedeli desiderando provvedere alla propria coscienza troppo spesso è distolto dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale. Accogliendo dunque le indicazioni del Papa del diritto canonico e del nuovo ordinamento processuale delle cause di nullità, Monsignor Russotto ha costituito il Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Caltanissetta con tutte e piene le competenze ad esso riconosciuto. La sede è a Caltanissetta, presso la Curia Vescovile, in via Carioli 8. Il Tribunale si insedierà a far data dal 25 marzo 2022 solennità dell'annunciazione del Signore. Il lavoro del Tribunale è sia forense giudiziale che pastorale. in aula opererà una compagine di ufficiali composta oltre che dal Vescovo anche dal Vicario Angelo Spilla e da altri due giudici, i sacerdoti Alessandro Rovello e Giuseppe Danna.